Ciao a tutti amici unicornosi e bentornati sul canale! Oggi apriremo la settima uscita della serie Creamy Mommy e le Incantevoli Maghette 3D Collection Questa qui penso sia la penultima uscita Quindi che ci sta? Questa qua, un'altra e poi penso che la collezione sia finita Non ne sono certa ma credo che è così Nell'uscita di questo video abbiamo la statuetta di Yumi Ana Zono Che non conosco perché per ora le statuette dei vari anime che abbiamo trovato in questa collezione Erano tutti o dell'anime di Creamy Mommy, anzi la maggior parte erano quelli lì Oppure dell'anime di Magical Emi E lei non fa parte di nessuno di due Però fa parte di un anime comunque simile Penso che sia comunque una bambina che si trasforma in qualcos'altro perché vedete la bacchetta? Quindi è sempre, diciamo, quella storia là Comunque basta chicchierare ora, andiamola immediatamente a spacchettare Ok Questa è la nostra statuetta E poi abbiamo il fascicoletto Ah, questa è la prossima uscita che ora vi faccio vedere Abbiamo questo cartoncino E anche questo però ha pochissime pagine Come avrei voluto sapere di più sull'anime di cui proviene Me la sarei immaginata infatti più piena di Più pagine Perché tipo Magical Emi Creamy Mommy E mi pare pure Yuu Quindi la prima, seconda e terza uscita Avevano più pagine Questa qua invece ha solamente Sette pagine E i primi tre ne avevano di più di pagine Quanto saranno state? Dieci? Vabbè Mettiamo da parte quindi il fascicoletto E dopo vi faccio vedere la prossima uscita Che probabilmente credo che sia l'ultima Ok, ora andiamo immediatamente ad aprire la nostra statuetta Vediamo se la riusciamo ad aprire senza le forbici Ok Ce la faccio anche senza forbici Ecco qui La scatola Come sempre trasparente In modo che passi a vedere La nostra personaggia Qua ci sta il nome Dell'anime Magical Edo Il pastel Yumi E andiamola immediatamente ad aprire Allora Vediamo un po' che sono curiosissima Di vederla Facilissima anche questa Tirare fuori dalla plastica Ed eccola qua E mi sembra già molto carina Ha uno scettro in mano Poi ha una specie di coda alta Legata con un fiocco E questa coda ha anche una treccia La faccio vedere anche qua Dall'immagine Poi ha anche tipo una collanina Che credo sia il ciondolo che ha qua in mano Sì, la collanina Poi la connellina Vediamo se è morbidosa Sì Che Nella L'uscita precedente Poi si nega I due gattini Di chi Mami Lì loro Avevano parti morbidose Invece lei ce le ha Quindi abbiamo La Gonna È morbidosa Poi penso Qua sì La coda dei capelli E un po' anche queste parti del fiocco E anche lo scettro penso No, lo scettro no Cioè Si muove un po' Però se si forza E dopo Penso si rompe Invece questa Pure questa Se si Forza si rompe Però guardate Si riesce a piegare così Questo No E quindi Eccola qua È molto 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 Carina Sotto c'è sempre scritto Il suo nome Yumi Ana Zono Sfogliamo Velocemente Il Fascicolo Perché Comunque Non ci sta scritto tanto Sfogliamo un attimo Quindi copertina E abbiamo qua Un'immagine Che anche lei Ha dei Diciamo Gattini Un po' Alieni aiutanti Come Posi e Nega Qua invece Ci sta L'introduzione Poi Poi Angel Angel Creamy Mami Abbiamo Toshio Atomo Che era Un amico Di Yu Allora Non so Quando uscirà Questa uscita Perché Di solito Esce Dopo due settimane Però Questa 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 Non l'ho Presa Subito Appena Uscita Quindi pensavo fosse uscita Anche questa Invece no Quindi Magari Esce tra un'altra settimana Boh Però comunque Come ho già detto Quella penso che sia l'ultima Ora facciamo il riepilogo Di tutte le uscite Finora Uscita numero Uno Creamy Mami Uscita numero Due Magicalemi Uscita numero Tre Yu Moritawa Uscita numero Quattro Megumi Ayanse Uscita numero Cinque Mai Kazuki Uscita numero Sei Posi E Nega E quella di oggi Cioè L'uscita numero Sette È Yumi Anazono Quindi queste qua Sono stati tutte Le uscite Finora Come ho già detto Un sacco di volte Questa penso L'ottava sia l'ultima E niente quindi Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettendo bellissimo Mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao